bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono il re della rista cancelletto 1 farò la recensione di un film del 1972 la regina dei vampiri durante un'epidemia nell'inghilterra del 1800 un circo giunge in un villaggio violando la quarantena e portando con sé qualcosa di terribile il mio voto a questo film è 9 ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto mi sono piaciute molto le scene del film l'interpretazione della sceneggiatura e di genere dell'orrore la durata è un'ora e 27 minuti il regista è robert young la regia è buona bravo regista la data di uscita nel regno unito il 30 aprile 1972 l'attore è robert tayman bravo attore nel film anche adrian corrie richard owens anthony higgins john moulder brown sibilla che lauren spain lynn frederick john bone roderick show thorley walters david provs elizabeth sill dorothy frere lalla ward skip martin robin hunter christine paul podlaski robin suchs mary wimbush domini blitte blitte sin evit david kaiser jenny twidge anna benetnik drina pavlovich saluto mammi santa 92 e samobrina aliciotola mark olf kevin michele tregiliani favij picchiatore bulluni van drago e telifane 122 tutti gli altri miei fan guardate questo video lasciate dei commenti lasciate dei like iscrivetevi al canale seguitemi su instagram arrivederci al prossimo video spero che questo video vi sia piaciuto ciao